buongiorno amici damani facciamo una cosa come facevamo tanto tempo fa siamo a pistoia qui vedete la cattedrale ovvero le ex officine breda menarini dove costruivano i bus e adesso c'è il mercatino dell'antiquariato quindi andiamo a fare un giro a cercare a vedere due orologini tempo è questo qui ma tanto non ce ne svega nulla perché siamo al coperto quindi venite con me andiamo a vedere qualche pezzettino ecco qui c'è un bel parcheggio grande e qua c'è la cattedrale andiamo dentro tutti i banchi adesso andiamo a fare un giro a cercare gli amici che troveremo eccoci qua siamo dall'amico gigi quant'è che uno vele andiamo un po d'orologine che c'è qui nell'espositore c'è una carica una carellata via pistoia no quella che si fa a noi di gruppo allora vediamo un po' bell'epretto ma presto 100 euro mi ha un centesimo per lavoro bell'epretto bell'acqua praticamente rifatto la lamina ma io se lo faccio vedere anche dentro poi si chiude l'epretto ecco qua bell'epretto poi saltiamo di qua allora qui ci abbiamo un bel buro vino al quarzo un bel lanco un bel perseo Pizzero, Pizzero, a Pizzero ci sono, eh? Poi, che c'è abbiamo? Un levretto. Swiss, Margie, poi qui c'è un tisso. Vedi come le mette bene, tutti per marchi. Un Lorida, ecco qui. Abbiamo Longines, un bel Girard Perego, un Omega, un altro Omega, la Bellina anche vestigia. Poi c'abbiamo qui un Longines, un altro Longines, un altro Longines. Bello, lo fa, bello. Poi che quella di legno ha il vecchio. Poi, qui c'abbiamo, allora, altri lorosini da donna, un altro veloce, qui che c'è, un po' che c'è qui. Qui che c'abbiamo. Un po' storti perché, ragazzi, vi faccio vedere il meglio che posso. Quindi non rompete le balle, guardateli così. Questo è un vetto, un altro vetto. Poi, ci abbiamo un bel Zeiko, un fuzzetto, scafala, un bel Margie, qui che sa, così, così. Il Cadet. Ah, questo è bello, questo è bello. Noi ci abbiamo queste qui, queste svegline qui, sveglina questa. Si carica tipo l'Ermeto, Ferrari, è una Polaroid. Allora, qui che c'è. Era già un po' che non veniva a trovare Gigi, quindi andremo a risarmi. Ah, c'è anche questo bel vostro qui, l'amfibio. E poi niente, qui ci sono quelli da spende e poco. Ci sono tutte cosine da spende e poco. Qui c'è un bel polgiottino, 31,33. Qui c'è un po' di russi, vedi? E poi qui abbiamo Reggiseni, Mutande, Gheppierre. di russi, di russi, di russi, di russi, di russi, di russi, di russi. E poi c'è questa scatolina qui. e niente tutto più abiezza ragazze con le riprese facciamo anche qualcosa da tasso un po un berato un po di robina c'è bello eh? Luca ma ecco ci si vedeva eh? si vede due orologi insieme vediamo un po che c'è qui apro ma bisogna stare attenti vieni come si fa qui vieni giù tutto vieni di battere periodosi lì eh? qui abbiamo anche i numeri dopo si mette tutto i numeri di Luca mettici l'ombrello vai qui siamo allora vediamo un po che ha portato Luca oggi allora qui abbiamo un orologino vieni qui della polizia di stato quelli che davano i corpi in stile di polizia che c'abbiamo un review un Willer sempre manuale un Princeps svegliarino no Rubens svegliarino ah Rubens è vero svegliarino quello è un Columbus svegliarino quell'altro invece uno svegliarino è sempre più grande qua è andato avanti un Willer Vettamont ah questo? si un'Universa Gineve del Fiesta assegnato un orologine scarica manuale uno Zenit 36 mm cassa cromata però quadrante originale bello poi un Bulob automatico un Ebel Ore Acciaio quello lì è un Bracciale di un Philip Walser magari sconosciuto poi c'è Bellino un Mondiali Zenit automatico bellino una misura piccolina ma bellino un Pulsar un Pulsar che quello va l'universo gli ricevovo la pila che non era la sua però facendo contatto poi c'era Mondial Zenit poi c'è questo automatico il nome è tedesco ma il movimento è automatico non so mi sembrava degli indiani ma non è degli indiani no almeno il momento è svizzero però un Rohamer secondi a 6 qui c'è un Vostok dove? un Vostok si un Vostok con la corona ore 2 poi lì un po' poi c'è questo sempre un Boktok un po' diverso questo è quello che si attacca uno Slav automatico un Russi un altro Russettino questo ce l'ho anche io con la bussola questo qui con la bussola francese mi sembra con la sua scatola poi c'è quello a sinistra con la scatola tutto automatico super sempre russo poi c'è un Lorenz penso stile maco una cosa del genere poi da uno squalo mi sembra poi c'è quella sua scatola che non è semplice da trovare questo Columbus 500 con la sua scatola poi lì c'è un po' di scritto misto c'è un po' di tutto lì si un po' di lo riprendo si va si va a capire portanto ci si mette il numero se ti senti se sono interessati ti contattano tanto Instagram Facebook ci sei qui ci sono dei quadranti per chi poi si è interessato 20 euro mi faccio sai del DPV quelli lì ci sono di quelli lì portare i corpi assegnati qua un lottino ho preso le tomme fatto bene poi c'è un po' di tutto c'è un altro review qui automatico qui invece arriva arriva dopo Gassiano Montus e niente questi qui se siete interessati dove è Luca dove è il numero di Luca qui eccolo lì ha acchiappato il numero lo chiamate e noi lo salutiamo ciao Luca buon lavoro buon lavoro guardate che soffitto qui ci sono un bagno è brutto lì no no è veramente forte questo posto qui è veramente bello è sufficiente bello 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 ci piace guardate che figlio questo eh bello 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 bene cari amici siamo arrivati anche alla fine di questo video qui nelle officine Breda di Pistoia spero che abbiamo visto un po' di orologini i contatti ve li lascio sia in descrizione video che in sovraimpressioni niente anche oggi abbiamo visto un po' di robina se vi è piaciuto mi raccomando un bel like iscrivetevi al canale io per il momento vi saluto ma ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti ciao